Nuova struttura, problemi vecchi. Sono stato per problemi familiari in pronto soccorso dalle 5 del pomeriggio e sono andato via alle 5 di mattina. Una cosa drammatica, pazzesca. Veramente il Vietnam, mi ricordano quei film che noi vediamo in televisione, gente sbuttata su lettini, infermieri che corrono da una parte o da un'altra, mancanza di medici, bambini che urlavano per il dolore senza essere visitati, rispetto del covid assolutamente zero, eravamo tutti ammassati. Quando si andava via una persona non venivano disinfettate né le carrozzelle né tantomeni sedili dove ci sedavamo, la struttura senza una finestra. Guardate, in decenni non ho mai visto una cosa del genere. veramente peggio probabilmente di quello che era il vecchio pronto soccorso. Per cui ho chiesto insieme al collega Berardino Fiorilli di essere subito ricevuto dall'Averì in un tavolo dal dottor Ciamponi, che è il direttore generale, dal direttore sanitario, ma soprattutto dal primario del pronto soccorso. Loro devono trovare immediatamente le soluzioni, perché le strutture c'è. Bisogna aumentare il personale che io ringrazio. Io penso che noi dobbiamo chiedere scusa ai cittadini di Pescara, che la AS deve chiedere scusa. Non mi alzerò dal tavolo, che si andrà a fare, spero, anche prima di Ferragosto. Non che si trovano le soluzioni per risolvere il problema, ma che le soluzioni vengono attuate immediatamente, subito. E soprattutto mi aspetto le scuse dell'AS.